Chiedete scusa a Nunzio Lella! Chiedete scusa a Nunzio Lella! Chiedete scusa a Christos Curfaridis e Nunzio Lella! Per 18 giornate, che giornata è questa? La diciottesima, è finito il girone, non lo so, diciassettesima, quel che è. Nunzio Lella ha giocato due minuti, se non sbaglio, contro il Genova nella sezione Serie B. Quindi oggi entra, perché finalmente non c'è un allenatore con la testa pacata come Fabio Liverani, oggi entra a 20 minuti e Nunzio Lella incide con un gol, non un tap-in da un metro che anch'io potevo fare, con un comp da biliardo, da fuoriare a Nunzio Lella. Un gol importantissimo dal peso totale di un giocatore che è stato veramente umiliato e deriso dall'allenatore che per tutta la stagione lo mandava a scaldare dall'inizio del primo tempo per fargli fare 90 minuti di riscaldamento e farlo entrare solo in un'occasione per due minuti nel recupero. Delle cose veramente vergognose ad un ragazzo che si è sempre allenato, è sempre stato a disposizione e è arrivato in ritiro, ragazzi, che se vi ricordate ha fatto un ritiro correndo il doppio degli altri, era in forma totale ed è stato bidonato dopo il ritiro. Non si sa per quale motivo, forse perché non aveva abbastanza tatuaggi, non aveva il cappello più tamarro rispetto agli altri, perché poi quando sento che un Barreca, che oggi anche in una partita che per 80 minuti è stata ottima, un Barreca dove ha sbagliato ogni passaggio sbagliabile fondamentalmente, quando poi mi sento che un Nunziolella in tutta la stagione ha avuto la possibilità di giocare solo per due minuti, mi chiedo veramente se nel calcio l'importante sia il cappello, sia l'orecchino, sia il tatuaggio, sia qualsiasi altra cosa. Nunziolella è veramente un giocatore sottovalutato e come lui Christos Kurfalidis, che oggi decidono con assist e goal i due giocatori che per 18, 17, 16, non so quante partite sono, ma sono stati bidonati, non convocati. Io quando sono sceso a Cagliari, Kurfalidis l'ho incontrato, stava cenando con Oberter, abbiamo fatto due parole al volo e gli ho chiesto se sarebbe poi stato convocato il giorno seguente per la partita che era al Bari. Per il Bari, lui mi fa, e non lo so, ancora non sono usciti i convocati, ma me l'ha detto con una faccia che già sapeva che non sarebbe stato convocato e quel giorno infatti non venne convocato. Quindi veramente riconfermo il vergogno a Fabio Liverani che si riconferma un incompetente del mondo del pallone, mi dispiace, ma si riconferma un totale incapace, un totale incapace e ripartiamo da qui, da Nunziolella, chiedete scusa a Nunziolella, chiedete scusa a Nunziolella. Io per 18 giornate ho difeso da solo Christos Kurfalidis e Nunziolella. E voi ragazzi, e qua fregniamo tutti e cerchiamo di capire verso dove va il calcio, volete continuare a leggere pieni di commenti con Naingolan? Ma Naingolan, ma cosa serve Naingolan, un ex giocatore da due anni? Ma cosa serve? E per Kurfalidis e Nella nessuno ha detto beh, per 6-7 mesi, tutti a dire ah ma il problema non è che non giocano Kurfalidis e Nunziolella, oggi la partita è decisa da Kurfalidis e Nunziolella, il Cagliari oggi si rilancia grazie a Kurfalidis e Nunziolella e Ragneri. Che tenga in considerazione questi ragazzi, deve tenerli in considerazione perché sono loro oggi che hanno fatto vincere il Cagliari, non altre cose e quant'altro. Loro oggi hanno fatto vincere il Cagliari, questo è il Cagliari del futuro. Da qui bisogna ripartire, non da Naingolan che deve tornare per la centesima volta rotto, che ne combina di ogni, ma cosa, ma veramente, ma chi è che vuole Rajan Naingolan? Ma per favore, ma l'ho adorato anch'io, ma basta con questo Rajan Naingolan. Tornando alla partita, partita per 80 minuti ottima, no, meno, scusate, per 70 minuti ottima, poi dopo il gol ecco la sostituzione del Duvumbo, che io ho detto, io non condividevo, l'ho detto anche prima del gol, per niente, non lo condividevo per niente, forse avrei tolto la Padula, forse Falco, avrei tolto Falco, devo essere sincero, l'avevo detto in live, che mi sembrava averne un po' di meno negli ultimi minuti, e tra l'altro, prima del cambio di Curfarides e Lella, ho detto, io lo vedevo su un sito in streaming, quindi ero un po' in ritardo, ho detto, io fossi l'allenatore, adesso cambiare i Curfarides, che lo vedo stanco, ed era il 68esimo, e mettere dentro Lella. Mettere dentro Lella perché sono due giocatori di corsa, di sostanza, di temperamento, e quindi li vedo bene come alternanza, no? Ragazzi, cioè, sono contento oggi perché l'atteggiamento è stato quello buono, poi ripeto, giocate tecniche clamorose non abbiamo visto, il Cosenza giocava in undici dietro la linea del pallone, abbiamo visto un Cosenza che era diverso da un Perugia, cioè paradossalmente sono ultime e penultime, ma per me tra Cosenza e Perugia c'è un divario, un abisso clamoroso, ma non tanto per la proposta offensiva, che è zero in entrambi i casi, ma più che altro perché il Perugia ha provato ad abbozzare un qualcosa, rischiando tantissimo, infatti ha preso tre gol da quel Cagliari imbarazzante, riuscendo a farne due. Però, ripeto, più che altro è legato al fatto, legato al fatto che a livello, noi abbiamo attaccato a livello intenso veramente tanto, Zappa, partita clamorosa, adesso ci arriviamo, abbiamo attaccato tanto, ma loro hanno difeso veramente senza mai neanche provare a ripartire, tranne erare i casi, tranne appunto gli ultimi dieci minuti dove potevano fare solo quello, l'attenzione perché poi arrivavi 1-0 al 90esimo, capitava il rigore e tu l'avevi buttato nel cesso in una partita dove l'avevi strameritato comunque alla fine, perché la vittoria oggi per quanto mi riguarda è meritata, c'era forse anche un rigore su un tocco di mano, non lo so, non ho capito bene anche perché oggi sono in Turchia, la sto vedendo non si, vabbè, insomma, robe strane. Quindi, ricapitolando un attimo, Barreca, a me, ragazzi, io, ditemi voi, io Carboni glielo preferisco centomila volte, cioè, a me sembra assurdo che questo giocatore ad oggi sia titolare nel Cagliari, cioè, è veramente un giocatore scarso, secondo me, senza nessuna caratteristica particolare, sbaglia tanto, Obert è partita perfetta, veramente perfetta, Dossena, scontentissimo per il suo esordio, ha fatto cose ottime, ha fatto cose un po' meno buone, va detto, cioè, non è perché solo Dossena ci sta più simpatico, ha la faccia di Gesù Cristo, e allora gli dobbiamo dire partita ottima, perché se il Cosenza fosse stato un po' più bravo a sfruttare certe situazioni che ha causato lui con dei suoi ritardi, attenzione che lì sono errori gravi. Io, onestamente, facendo un bilanciamento, voglio vedere Dossena ancora qualche volta, inserito magari più gradualmente, ma personalmente anche non capisco sull'1-0 perché mettere Capradossi e non Altare, cioè, se tu metti sull'1-0 per difendere il risultato, dovresti mettere Altare, che a livello di marcatura, secondo me non c'è paragone, comunque, facendo un balance tra quello che ho visto, continuo a pensare che Altare rispetto a Dossena e Capradossi sia 10 spanne sopra, soprattutto a Capradossi. Zappa, partita clamorosa, secondo me, come Nandez, che continua a ritenere che, per quanto, non è un giocatore che mi sta simpatico, lo sapete, oggi ha però fatto una partita, ha sentito il peso della fascia, secondo me, e questo deve fare il capitano, cioè, sentirlo, ma sentirlo in senso positivo, quindi benvenga, cioè, per quanto io ritenga la fascia, anche una cosa abbastanza importante, cioè, se Nandez, con questa fascia, gioca con questa intensità, e credendoci così tanto, anche se secondo me, vi dico anche un'altra cosa, io l'avrei tolto a un certo punto, perché l'ho visto veramente stanco, veramente, era sempre piegato sulle ginocchia dal settantesimo in poi, poi, alla fine, ha inciso anche lui sul gol, e poi gli altri, cioè, Macumbo anche oggi ha giocato bene, tutto sommato, mi sono piaciuti, cioè, Falco anche ha giocato bene, ha fatto bene da collante, la padula fa schifo, poi segna, quindi, buono così, poi lotta fino alla fine, è un giocatore veramente che mi fa un po' ridere, mi fa anche simpatia, quindi, bene così, e dai ragazzi, dai ragazzi, chiedete scusa, Nunzio Lella, oggi, giornata, adesso vado su Instagram, venite su Instagram, e facciamo una roba per Nunzio Lella, un tributo totale, ciao ragazzi!